Anche quest'anno è stato il Salotto di Torino, il cuore pulsante della città via Carlo Alberto, ad ospitare domenica la seconda edizione di Vettrine della Solidarità. La manifestazione, organizzata da Idea Solidale, con il patrocinio del Comune di Torino, ha avuto l'obiettivo di mettere in mostra e far conoscere ai cittadini la grande realtà del volontariato. Una sorta di grande vetrina umana dove gli operatori del settore hanno potuto spiegare e illustrare le proprie realtà e non solo attraverso un mercatino di prodotti realizzati dalle stesse associazioni è stato possibile anche raccogliere fondi utili e preziosi per sostenere questo settore.